Senti, dopo la prestazione in Trapani ci si aspettava qualcosa di più, anche se i cantissimi infortunati sicuramente mi hanno tolto tanto questa sera. Sì, è stata una parte difficile, loro hanno pensato molto difendersi. Loro hanno solo pensato difendersi, hanno creato pochissimo, noi ci avevamo messo del nostro, abbiamo avuto meno tempo di loro per recuperare, però ci avevamo messa tutta e l'abbiamo dimostrato quando al 94esimo eravamo ancora a rincorrere avversari. A parte tanto organismo e tanta foglia, però sembrava quasi che la parte scottasse dei piedi, diciamo, nei reparti c'è un po' di distanza, poche genetrie, poche idee soprattutto. No, non è questione di idee, perché lavoriamo benissimo in settimana. Il mister è davvero una cosa impressionante, cura ogni dettaglio, è molto preparato, sono cambiati i carichi di allenamento, siamo passati da fare poco a correre veramente tanto, il giusto, e il mister veramente ci sta dando una mano incredibile. Secondo me i risultati si stanno già vedendo, ma si vedranno più avanti molto di più.